ebbe la possibilità di interpretare un ruolo che era allo stesso tempo stimolante e gratificante ed è considerato da molti come il suo miglior lavoro. Il film era basato su una storia vera di una suora missionaria belga, Marie-Louise Abbé. È una potente storia commovente della lotta personale di una donna con la sua coscienza, il suo impegno e le sue convinzioni. Questo film fu molto significativo ed influì molto nella sua vita privata. Si immerse nel ruolo, passò molto tempo in un convento, fece esperienza della vita in ritiro e osservò le abitudini delle suore. Imparò ad usare strumenti medici, prese parte ad operazioni, visitò ospedali ed incontrò le brose. Mai eccessivamente religiosa, Audrey aveva un alto spirito umanitario, con grande rispetto per tutte le forme di vita. Il suo percorso emozionale per interpretare questo ruolo sembrò lasciare un'impronta indelebile nel suo animo, instillando una grande compassione che tornò in superficie più tardi quando si occupò instancabilmente dei bambini poveri del mondo. Non c'è mai stata una foto di un'impronta come la storia di un'impronta. insieme alla storia diightoli procedero, e le Hinata,